Contro tutti. Marine, in azione. Marine, in azione. Marine, in azione. Marine, in azione. UAV da ricognizione in attesa. Il nostro UAV è operativo. Il nostro UAV è operativo. UAV da ricognizione in attesa. Il nostro UAV è operativo. 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 Grazie. 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 U-AV da ricognizione in attesa. Il nostro U-AV è operativo. Grazie. Grazie. U-AV da ricognizione in attesa. Il nostro U-AV è operativo. Grazie.